Il campionato si vuole. Andrea Cioffi, sei subentrato e alla fine sei stato deciso per questa vittoria di rimonta in casa della Juve Next Genova. Sì, sono contento. Abbiamo preso gol appena sono entrato, quindi si era messa a male. Sono contento perché è un percorso che noi vogliamo finire bene. Quindi fare queste vittorie significa quanto la squadra è forte, quanto la squadra mentalmente è forte. Dopo una situazione leggera e tanto avrebbero mollato. Invece ci teniamo a finire bene e sono contento per il gol e per aver aiutato la squadra a raggiungere questo bellissimo risultato. Una gara sostanzialmente equilibrata fino al gol di Turicchia, tra l'altro ex dei Zomeni del Cesena. Vi ha servito per dare una svegliata forse? No, ma sicuramente magari non era una partita facile, quello lo sapevamo. Poi quello è stato un episodio che comunque si alzi. Secondo me più che svegliarci era un episodio che poteva metterci ancora di più in difficoltà. Invece noi siamo restati calmi sul pezzo e quindi poi dopo è fine va bene. Torres ha perso contro la Fermana. L'obiettivo di superare o almeno comunque ugualiare il record del Catanzaro è ancora vivo? Sicuramente noi partita dopo partita le vogliamo vincere tutte quante perché come ho detto vogliamo finire bene. Poi se ci riusciamo sicuramente sarà una bellissima soddisfazione per tutti quanti. Grazie. 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 Grazie.